ragazzi scusate ma in fase di editing non sono riuscito a mettere il chroma key nelle scene e quindi non ci saranno le immagini anche se io ne parlerò mi dispiacere veramente tanto perchè sarebbe stato un effetto molto bello ma il programma di editing non riesce a prendermi il nero come un colore e quindi mi dispiace vi lascio al video perchè comunque è molto bello e ciao e bella a tutti ragazzi qui è Pazzo che vi parla e oggi ho la mania di fare così comunque siamo su Core Ball 100 e non ho capito cosa ah adesso ho capito che gioco è scusate qua per l'annuncio ma c'è il c'è posso fare il green screen perchè è tutto nero ma chi sono? e quindi giustamente se è tutto nero noi cosa facciamo? mettiamo dietro un bello sfondo di di una galassia ah ecco questo sfondo va bene ho sbagliato ho sbagliato ma che genio ma che genio è il coso del come vinti? è impossibile è il coso è lo sfondo della galassia dietro che mi fa vincere boom ma chi sono? tre livelli in trenta secondi no non hai capito questi lo devi fare tutto giusto no 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 chi genio no 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 quanti sono? 1 2 3 4 5 6 7 8 ok è impossibile no 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 ma se ne faccio un sacco di seguito senza col primo dovrezze cercare anche gli altri no cambiamo sfondo e mettiamo quello dei my little pony oh adesso si che si ragiona facciamo i seri perché c'è tipo la musica del gioco che ti pompa a cercare di farlo giusto giusto e lo sfondo dei my little pony ogni tanto va cambiato lo sfondo questo questo non è neanche servito questo si invece servirà un altro tentativo perché sbaglio sempre il 10 no mi fa quasi arrabbare più del parkour perché io ho schiacciato giusto no 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 io in realtà ho schiacciato giusto no dopo me lo calcola sbagliato ma non è colpa mia è colpa del computer perché in realtà io sto facendo perfettamente giusto vedete in realtà è una colpa del computer che me lo calcolava sbagliato questo è colpa mia invece no 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 inizia dalla quale no lo devi fare così no no non ce la faccio questo livello è impossibile se ne devo mettere dentro ma sbaglio non ce la farò mai se ce la faccio sto qua a tentare di toccarmi con un piede alla testa se ce la faccio se ce la faccio entro cinquanta tentativi uno se ne è andato due tre quattro no quattro se ce la faccio prima di cinquanta tentativi cinque sono andati sei tentativi sono andati sette tentativi sono andati otto tentativi sono andati nove tentativi sono andati dieci tentativi sono andati undici tentativi sono andati dodici tredici quattordici è da due minuti che sono su questo livello quindici sei diciamo 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 19 Perché? 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 20 Andiamo di 20 Noi andiamo di Allora 22 23 24, scusate 25 26 Allora, 27 Devo zeccarne uno alla volta 28 29 30 Ve l'ho detto che non ci facevo entro 50 Attentativi 31 32 Per fortuna Se non mi devo toccare con un piede la testa 33 34 Siamo con questo 35 36 Ce la sto così facendo 37 38 39 40 41 41 42 42 43 43 44 45 46 44 45 47 47 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 41 55 50 60 Contativi, 54. Ma sono appena detto che non li conto più! Ragazzi, è impossibile. Ma capisco quella gente che è riuscita a arrivare al livello 100. Ah! Non è possibile. Non è possibile. Sono avuto una cosa come 60 tentativi. Non è possibile! Io ho questo distacco tutta la notte, ma sto livello, lo voglio fare. È diventata una questione di... L'ho presa... L'ho legata al dito. Per farvelo proprio... L'ho legata al dito. Cosa roba. Mi tocca attaccare pure il telefono sottocarica perché è scarico. Perché è al... 2%... E se si scarica qui giù non mi ricordo neanche più che ore sono dopo. Sì, ho un iPhone. Sì, ho un iPhone. No! 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 Non è possibile! Mi dicevano, ma su chi gioca a quei giochi lì che sarà divertente? Oh! Oh, cavolo! Dicevano, è divertente! Giocaci! È divertentissimo! Proprio! Oh! Cioè, adesso voglio vedere quello dopo. No, ma non ci stai. Ho trovato il metodo di akbizzare tutto. Ah no, fa doppio click. No, è impossibile. Sono 26 minuti. Voglio fare anche questo. Niente. No, aspetta, ci riprovo un'altra volta. Niente. Ragazzi, per questa volta è tutto. E ci vediamo alla prossima. Col prossimo minigioco. Col prossimo livello di questo. E... Ciao!